Buongiorno amici, ben ritrovati, siamo a Castelpuzzone in provincia di Cremona e siamo qui con il sindaco del comune di Scandolara-Ravara in quanto Castelpuzzone è una frazione del comune di Scandolara-Ravara. Oggi è un giorno importante e il signor sindaco ci spiegherà il motivo perché questo giorno è così importante. È un giorno bellissimo anche dal punto di vista climatico, è l'ultimo giorno dell'inverno, domani è primavera e c'è questa bellissima giornata che accompagna questa camminata e quindi sarà il giorno che siamo tutti all'aria aperta sperando anche che sia la fine e la chiusura della brutta vicenda del Covid che ci ha perpetrato molto in questo periodo. Bene, ringraziamo il signor sindaco e amici buona continuazione di questa bella giornata e questa bella camminata in favore di Medea, vero? Grazie. 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 Grazie a tutti. Allora siamo qui con i Fashionini che hanno organizzato questa bella amministrazione, e con questo prix dice, mi dice vino Ilrisalà? Siamo qui a ricevere tutta questa bella gente per aprire la stagione delle castelline in modo tale che così abbiniamo sia l'attività ludica e ricreativa con l'attività nostra di beneficenza in modo tale appunto che parte del ricavato che oggi riusciamo a ottenere lo devolveremo a Medea. Bene, grazie. Viene, prego. Grazie. E allora proseguiamo con la nostra camminata. Certo. A favore di venire. Anzi auguriamo tutti che si divertano e che sia il modo appunto per aprire la stagione. Bene. Va bene. Vi ringrazio molto. Ci siamo. Grazie. Grazie a voi. Pulsore San Martino dell'Ago. Puglio la maschera. Qui. Il signor sindaco del Comune di San Martino dell'Ago vuole dire una parolina qui. Il merito. Beh, io devo fare i complimenti alle Castelline perché è veramente una bella manifestazione. Tanta gente e complimenti. Lo faremo anche noi. Noi vogliamo dire che il lunedì di Pasqua lo facciamo anche noi in onore di Don Arnaldo. Questo è una bella cosa. Lei mi dica qualche cosa da dire. Io sono contenta di essere qui a Castello perché io non abito a Castello e con le mie carissime amiche siamo qui e cerchiamo di fare una bella passeggiata. Sì, io sono di San Martino ma sono nativa di Castelponzone. Bene, grazie. Non, 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 non. No, non, 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Se volete un po' d'acqua, buongiorno, grazie. Grazie. Questo è un punto di ristoro, bene, ma alla mia età non ho bisogno di ristoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.